Ed eccolo Gabriele Zappa, professione terzino destro, giocatore molto atteso in rival adriatico, scuola Inter soprattutto. Sì, sono molto contento di essere qui e ringrazio il presidente e la società per questa opportunità. Arrivo con molto entusiasmo e speriamo di far bene. Hai anche esordito con Spalletti in Europa League. Sì, sono andato in panchina con l'Eintrac Francoforte, è stata un'emozione bellissima e che rimarrà sempre nel mio cuore. Questa è la prima vera esperienza da professionista, una stagione che potrebbe lanciarti davvero nel grande calcio. Cercherai di sfruttarla al meglio? Sì, ovviamente cercherò di sfruttare questa occasione al massimo e sono contento di poter dimostrare il mio valore finalmente nel calcio dei grandi. Conosci Bettella, sei stato anche compagno del difensore del Pescara. Cosa ti ha detto di quest'ambiente, di questa squadra, di questi tifosi molto caldi ed esigenti? Lui mi ha parlato fin da subito molto bene di questa società, di questo gruppo e soprattutto anche della città di Pescara che comunque i tifosi sono molto caldi ma ti fanno sentire bene quando giochi perché appunto tanto tifo è importante. Cosa ti porti dietro da questa importante esperienza a livello giovanile avuta con l'Inter? Sicuramente mi porto dietro tanto perché comunque cinque anni nel settore giovanile dell'Inter mi sono serviti a crescere. Appunto io ringrazio la società che mi ha permesso di arrivare comunque a essere qui a pescare in una società così importante. Arrivi in punta di piedi, ti troverai di fronte ai giocatori che hanno una carriera importante alle spalle come Balzano e Ciofani, tanto per fare qualche nome, però Gabriele Zappa proverà ad essere subito titolare nel Pescara di Zauri. Certo, io ci provo, poi rivenerà dal mister che saprà fare le scelte più giuste. Sono contento comunque che ci siano due giocatori di grande esperienza che fanno il mio ruolo, che mi possano aiutare e dare tanti consigli per migliorare. Tifosi a piazza si aspetta tanto da questa squadra, siete responsabilizzati a fare un grande campionato? Sì, lo sappiamo. Infatti il Presidente ha fatto delle grandi scelte, ha acquistato dei grandi giocatori. Infatti siamo un gruppo, dalle prime impressioni mi sembra che siamo un gruppo forte e che possiamo fare sicuramente bene.